Il controllo del territorio da parte del clan Ercolano è un dato storico per gli investigatori e veniva esercitato anche a livello economico, imprenditoriale e finanziario. Ora parte di quell'impero costruito dal clan legato ai Santa Paola passa allo Stato. Gli uomini della DIA e i carabinieri del Rosso hanno eseguito il provvedimento di sequestro e confisca disposto dal Tribunale su richiesta della DDA e per due grosse società gestite dagli Ercolano scattano così i sigilli. Si tratta della Geotrans SRL, società di trasporto e della controllata Geotrans Logistica Frost che invece si occupa di conservazione di prodotti surgelati. Tutte e due le aziende sono riconducibili al boss Giuseppe Ercolano morto nel 2012 e poi intestate e gestite dai figli. La prima società in particolare è il leader nazionale nel settore del trasporto su gomma con circa 30 dipendenti e un parco di oltre 120 mezzi. Ha un fatturato da 5 milioni di euro l'anno e opera anche come agenzia di intermediazione tra i committenti e i broncini sul trasporto marittimo dal porto di Catania. Quanto alla seconda azienda di cui la Geotrans ha acquisito il controllo al 99% a base nella zona industriale di Catania in uno stabilimento appena costruito e dotato di impianti all'avanguardia per lo stoccaggio dei surgelati. Ha un pacchetto clienti che conta le principali aziende del settore. Gli accertamenti sul patrimonio aziendale degli Ercolano hanno ricevuto nuovo impulso dalle indagini sui clan attivi nella zona di Fondi in Campania. L'operazione denominata Sud Pontino in particolare aveva rivelato il controllo dei clan dei Casalesi e dei Mallardo sul mercato ortofrutticolo e soprattutto aveva messo in luce come i trasporti da e per la Sicilia venissero effettuati da imprese mafiose grazie ad un patto stretto tra i boss napoletani e Cosa Nostra Catanese, alleanza che vedeva in prima linea proprio gli Ercolano. Di qui altre indagini di carattere bancario e finanziario che hanno portato alla scoperta dell'evoluzione del patrimonio di famiglia. Già in passato Giuseppe Ercolano, personaggio di spicco perché parente di Nitto Santa Paola e perché al vertice di Cosa Nostra Catanese aveva subito confische pesanti come quella della sua società di trasporti, la Avimec. Subito dopo però aveva costituito la Geo Trans SRL intestandola ai figli Vincenzo e Cosima così avrebbe continuato ad esercitare il controllo del settore imponendo anche con minacce le sue condizioni economiche a fornitori e clienti. Di lui e di tutto questo hanno parlato anche alcuni collaboratori di giustizia come Santo La Causa, Carmelo Barbieri e Gaetano D'Aquino.